Io intanto ringrazio Roggio Lani, collega Gabbani, di questa opportunità. Io da anziano professore di microbiologia all'Università di Venezia, io mi sono occupato di acqua. Qui si è molto parlato di terreni, però anche con le ultime diapositive, l'ultimo intervento, poi tutto finisce in mare. Ovviamente il problema della laguna e il problema anche di quelli che sono gli effetti sull'ecosistema marino, di tutto quello che avviene in terra, quello è stato un po' il mio campo di interesse. C'è un aspetto, su quello che vi farò velocemente vedere, che è legato poi nel mare al ciclo dell'anidride carbonica. Perché qua si parla sempre di foreste, prati, è benissimo, però l'80% degli scambi di CO2 con il pianeta Terra avviene in acqua. Per cui quello è l'area sensibile a tutti quelli che sono i grandi aventi. In termini di ciclo di carbonio, quello che sta succedendo con quell'iceberg grande quanto la Liguria che si sta staccando. Dico solo una cosa, la quantità di gas, ossigeno e CO2 che sta mescolata nell'acqua dipende dalla temperatura. Più si scalda e più va tutto in cielo. Per cui il problema della temperatura, a noi ci dà fastidio questo caldo qui, eccetera, ma l'effetto della temperatura sulla non fissazione, e ve lo mostrerò, della CO2 che è nell'aria, dentro il mare, dove avviene il processo di fissazione e, come vedremo, di inertizzazione e definitiva formazione di materiali, dove vanno questi materiali. Le dolomiti sono una dimostrazione di quello che è successo in circa 250 milioni di anni. Cioè i grandi cicli, quando si parla di questo, bisogna parlare di cicli biogeodinamici. E allora io vi parlo un po' del bio. Qual è il tipo di organismo che è alla base? È qualcosa che noi conosciamo, sono i molluschi bivalvi, che filtrano, sequestrano, mettono dentro ai gusci tutto quello che è sciolto nell'acqua. Per cui anidride carbonica che diventa acido carbonico, ma in più anche tutti i minerali che sono sciolti. Ecco, io in questi anni, ultimi dieci anni, anche con un contributo di un industriario vigo, di cui salutò la dottoressa Merlante, io ho studiato questi fenomeni anche in termini di produzione. Cioè che cosa significa in termini di produzione questi cicli. Allora, brevemente, anche per chi ci vede da più lontano e che saluto, i bivalvi sono degli organismi antichissimi, invece che avere lo scheletro, c'hanno il buscio, un po' tipo tartaruga, è tutto lì dentro. Quando sono nati questi organismi? Quando sono nate le maree? Perché prima c'era molta più acqua, diciamo, all'inizio. Poi dopo, quando sono emerse le terre, sono nate delle zone in cui l'acqua c'era un po' alla volta e sono venuti fuori degli organismi che hanno fatto in maniera da chiudere un po' di acqua dentro, intorno al proprio corpo, in attesa che poi ritornasse. Quella filtrazione avviene con un sistema molto semplice. c'è, ecco, da tenere presente il congetto che i molluschi bivaldi, come ho scritto lì, bioaccumulano composti tossici a concentrazione di maggiori, molto maggiori di quelli che si trovano nell'ambiente. Queste sono fotografie elettroniche del... Sì, vedo, vedo, grazie. Fotografie elettroniche dei gusci, sono aragonite, calcite, sono quelle che poi, appunto, hanno formato in gran parte qui le dolomiti. Vedete come questa è una fotografia a microscopio elettronico. Nelle valve avviene la fissazione dei materiali, cioè degli elementi che ci sono nell'acqua, si passa di processo di bio-mineralizzazione, cioè è un sistema biologico, non è un sistema fisico, e in questa maniera questi composti, dove vedremo c'è cadmio, piombo, c'è tutto, però vengono resi inerti. Cioè non sono più in grado di reagire in termini biologici. Cioè questo è un sistema in cui il mare, le acque, si detossificano per conto proprio. E allora capite bene l'importanza. Abbiamo studiato la cosiddetta cozza, inutile, quello che è, e l'ostriche, per vedere quelle che sono i vari tipi di caratteristiche. Poi sull'arsenale lo vedremo meglio sull'altra diapositiva. Abbiamo, quindi sono zone piuttosto contaminate. Se andiamo a vedere che come è fatto il guscio del mitilo, cioè delle cozze, e invece poi di un più nobile, di un'ostrica, vedete che lì ci sono tutti quanti i metalli che sono presenti in mare, anche quelli tossici. Tutti quanti. Allora, la componente in peso di questa parte che è diventata minerale varia intorno al 25-30% del peso dell'animale. Per cui sono dimensioni notevoli in termini generali. Le caratteristiche di questi gusci dipendono da dove stanno. Noi abbiamo fatto l'analisi di tre diverse zone, Marano, Venezia e il Delta del Po, vari siti, e vengono fuori tre cluster di composizione di questi minerali. È una formula statistica piuttosto complessa, ma viene fuori che ogni area ha i suoi gusci caratteristici. E questa è una maniera anche per fare delle verifiche se si vuole da dove vengono i molluschi. Se ci fosse uno che viene dalla Grecia non fa parte di nessuno di questi anelli. Allora, cosa ci si fa oggi il progetto adesso a Venezia? La pesca dei mitili produce una grande quantità dei mitili e anche delle vongole una grande quantità di scarto perché viene e viene oggi buttato in acqua. Si stima che dentro la laguna di Venezia ci siano qualche cosa come 25.000 tonnellate di questo materiale che è inerte sta lì però a furia di metterlo crea dei problemi. il progetto che abbiamo a Venezia è di fare dei manufatti che poi possono servire vedete la zona di quella sponda quelli sono dei salcicciotti di 2 metri per 70 centimetri pieni di questi gusci che hanno una funzione anti-erosiva ma soprattutto hanno poi una funzione che come si dice serve a reimpiantare cioè diventa vitale questo diventa una specie poi di bosco diventa una situazione che è molto importante quello è il ciclo del carbonio che è molto importante vedete che i bivalvi stanno alla fine questa è la formula semplice di come avviene la formazione di carbonato di calcio partendo dall'acido carbonico che viene dalla dalla dall'atmosfera e il discorso della temperatura e anche di mutamenti climatici è di fondamentale importanza in questi equilibri per cui quello che è importante qui c'è un discorso di uso dove si tratta di pulire tenere puliti degli ambienti dove non sei il porto il sedimento del porto ma delle aree che non si può andare a dragare tutto quanto beh questi sono assolutamente organismi che sono essenziali e giustificherebbero una produzione di miti di cultura cioè di quelli molluschicoltura con una finalità che è solo ambientale uno solo di quegli animaletti filtra 15 litri di acqua al giorno uno e qua ci troviamo invece con milioni e altro che depuratori ecco come come efficienza poi sono pure buoni mi mette l'altro per cortesia e sarebbe un monumento alla spezia abbiamo chiamato il monumento al mitile ignoto perché alla spezia dopo che abbiamo spiegato più volte e con lettere ufficiali che qualora dragassero con il sistema antico o della benna bivalve che sembra prendere in giro tra l'altro le cozze quindi è una vicenda come dire capito insomma c'è tutta una storia sulla rivalutazione della cozza che dobbiamo riaprire però una questione che abbiamo detto è la questione della abbiamo proprio fatto questo monumento perché ahimè è successo che nonostante tutte le spiegazioni e nonostante gli avessimo detto se Dragata in quel modo succede un disastro ambientale ci sono riusciti e sono morte tutte le cozze allevate nel golfo di La Spezia cioè e per anni anche quelle naturali soprattutto quelle spontanee ecco come si dice io non me ne intendo tranne che insomma mi piace mangiarle se si va intorno alle zone della laguna lì la moluscicoltura avviene su una diga no che è la diga di La Spezia dentro sono morti tutti fuori a 5 metri di distanza stanno benissimo sì hanno detto che era passato un sottomarino perché è venuto anche questo l'arpa Liguria è riuscita in questa vicenda del sottomarino che evidentemente la prima scia chimica da sottomarino così te Giorgini ti puoi rifà quando ti pigliano un giro sulle scie chimiche di qualcuno si scherza no voglio dire noi sappiamo bene che parliamo di scienza e non di sciocchezze però è stato tentato addirittura era una battuta per raccontare ahimè cosa significa da quel momento in poi lo studio successivo sul Mar Piccolo a Taranto ha avvisato che essendo un grandissimo allevamento di cozze ovviamente la questione sarebbe stata risolta nel primo dragaggio al volo e era solo per grazie sapere come mai ci stiamo imparentando con questo con questi gusci di cozze ecco una domanda professore se posso ma io vivo sono di San del Tertoroto quindi mangio questi bivari mica mangia il guscio lei allora non ci sia un problema lo so ma quando saranno sapere questi sia le cozze che le vongole dentro lo so che il guscio ha giusto che il poi lo rivediamo dentro ha bisogno di sapere se ancora è sostenibile come cibo visto quello che sono diventati i mari no? allora il passaggio dalla scusa recupero la domanda no no ma ho capito il passaggio si sente da casa quei 10.000 allora stando in un'area diciamo un'acqua parzialmente contaminata diciamo con quello che abbiamo visto che comunque nell'acqua di mare ci sono sempre presenti una certa differenza quanto in quanto tempo vanno a finire sul guscio e si inertizzano qualche minuto va bene poi per prudenza c'è sempre la regola che quando dai frutti diciamo dagli impianti si deve andare al consumo a seconda delle zone bisogna fare un periodo di stabilazione ma questo per impedire che rimanga ancora qualcosa nella parte edule cioè la parte molle e si è andato tutto sicuramente nel guscio ma questo è molto efficiente questi sistemi biologici questo è un po' una sintesi di un lavoro iniziato nel 2007 ma finito si si ce la fai finito nel 2007 in cui vi faccio capire che cosa significa bioremediation qui abbiamo visto una remediation che sostanzialmente è una macchina chimico-fisica quello che noi abbiamo fatto qui è un discorso basato solamente sul sistema biologico l'abbiamo fatto in un bel posto l'arsenale l'arsenale di Venezia in questa prima vasca dopo dopo l'entrata perché l'abbiamo fatto lì perché è una zona che non è perturbata dalla navigazione per cui una volta ci passava un vaporino e il vaporino e il motoscafo adesso da tanti anni non ci può passare per cui quello che abbiamo messo era sicuro che non fosse anche l'estrumentazione che ci fosse perturbazione da traffico abbiamo fatto sostanzialmente una una tecnica di supporto di ossigeno cioè le zone contaminate si dice che hanno bisogno hanno una grande domanda di ossigeno e qui c'erano un metro e mezzo di fanghi oleosi c'era carbone addirittura e noi abbiamo fatto questo è un trucco da microbiologi insomma abbiamo dato l'ossigeno che serve per poter metabolizzare e ossigeno e inertizzare da che cosa utilizzando i batteri che stanno lì questo è un gas con il suo liquefattore una centralina di distribuzione questa è la tecnica è molto semplice parlate questa è la definizione significa fornire ossigeno in maniera da garantire delle condizioni aerobiche per fornire alle comunità microbiche l'accettore elettronico necessario alla biodegradazione che vi faccio vedere questo è come erano distribuiti diciamo dal dall'impianto con una sistema di di un grosso tubo di lungo al bordo e poi tanti tubi porosi e con quella c'era la somministrazione sul fondo questa è una somministrazione in situ cioè la somministrazione di ossigeno veniva sul fondo del sedimento ecco qua come erano distribuiti va bene basta questo è tutto l'impianto naturalmente ci occorre un po' di tempo questo è il processo di biodegradazione in cui avviene una cosa molto semplice che da un anello benzenico che è la componente di tutti questi idrocarburi idrocarburi i batteri fanno un composto che diventa assimilabile e va nelle catene trofiche e non è più tossico questo è tutto con vari tipi di tanto poi questo resta ma qui mi hanno detto giustamente di completare tutte le analisi che abbiamo fatto è venuto fuori un lavoro pubblicato a livello internazionale mostro solo due dati questo è la differenza che c'era rosso gli livelli di idrocarburi che c'era prima del trattamento il blu e dopo il trattamento va bene questo è per cui si può degradare al 90% di quelli che sono tutti gli idrocarburi che sono presenti bisogna avere solo pazienza perché questa non è una cosa in cui si può dare una velocità che ci si può dire con le macchine i batteri hanno i loro tempi però sono molto efficaci poi era posta una domanda sì vabbè e tutti i metalli che stavano nel 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 sedimento beh rispetto a quello che vi ho detto prima dove sono andato ma è semplice sono andati nei usci degli organismi che erano abbondantemente presenti va bene anzi c'è stata una fioritura siccome per fortuna un ambiente non perturbato per cui nessuno è andato poteva fare raccolta di materiale per cui era un materiale ottimo questo è quello che vi ho già mostrato questi erano i risultati per cui si può pulire l'acqua i sedimenti con una tecnica combinata molto semplice un po' di microbi a cui dare l'ossigeno che gli serve e un po' di molluschi che filtrano e sequestrano e sequestrano tutto il materiale buono per essere usato come materia prima o seconda in opere di tipo malittimo qui poi questo con l'accordo e questa è l'ultima con il distretto della pesca di un'industria rovigo abbiamo fatto una valutazione su questo genere sulla miti di cultura miti di cultura vero miti di cultura al delta del Po va bene abbiamo fatto tutti i conti abbiamo fatto tutti questo è molto complicato qui comunque la dottoressa Merlante può rispondere a tutte le domande per quello che si riguarda qual è il risultato il risultato è stato quella della prima volta posso dire tranquillamente di avere dei crediti di carbonio marini invece che legati al legno o cose marini bene allora vedete lì i numeri per quello che riguardava 2009 10 11 e 12 e non era tutto il delta del Po erano solo alcune zone i crediti di carbonio certificati erano alla fine quasi 17.000 tonnellate 17.000 tonnellate ecco se si tiene un po' più pulito al mare questa efficienza può ancora aumentare di più per chi inquina e in qualche maniera anche gli amici qui della Trevi eccetera che comunque consumano energia emittente ecco questa sarebbe una bella compensazione fra CO2 emessa e invece CO2 che con cui si può fare si può fare compensazione cioè i cicli possono essere combinati in una maniera virtuosa grazie grazie per l'attenzione poi poi dobbiamo stringere perché altrimenti non chiudiamo la sessione entro le 18 dove c'è poi la sessione salute quindi dubbio per chi vive in zona c'è il grande problema su venezia delle grandi navi con tutto quello che gira intorno volevo sapere se lei ha conoscenza di tutto quello che sta avvenendo credo di si e se tutto il problema Siccome lì così c'è una scelta di tecnica, fra quello di lasciare le navi fuori da Venezia e quelli che invece vogliono scavare praticamente i vari canali, dove nello scavare i canali per poter permettere il transito delle navi, dicono che sono tutti fanghi inquinati. Volevo sapere se lei in questo contesto è in contatto con tutti i comitati ambientali per questa problematica e se hai dato dei contributi su questo argomento. Grazie. Io solo l'anno scorso ci siamo incontrati ovviamente con i comitati, abbiamo fatto un'iniziativa a Mira e ovviamente su quanto è inquinato quel canale gli risponde Ravagnan. La questione è che le meganavi da Venezia devono starne fuori e punto, ma per molte questioni. Il dragaggio però di Venezia è comunque un'opera essenziale e fondamentale, perché Venezia è invasa da fanghi che strutturati in quei termini sostanzialmente impediscono alla laguna di essere un corpo vivo. Il fango nel momento in cui si deposita è un elemento e noi abbiamo oggi presentato le tecniche per cui non si ha più paura di dragare. Possiamo dragare e portare via, ma non è che draghiamo e portiamo via per poter portare le grandi navi in piazza San Marco. Ci sembrerebbe la madre di tutte le cazzate, se così mi posso esprimere in maniera poco consona. Però la questione è abbastanza chiara, quindi è un dibattito che ovviamente noi però ribadiamo un'altra questione, è quella di ripulire i motori delle navi dal gasolio e con tutte le riconversioni che presenteremo sabato mattina per mandarli a metano e dragare i fondali e ripulirli dai fanghi è un'opera formidabile e essenziale. Se sono inquinati oggi finalmente presentiamo il sistema per portarli via davvero, anche perché mantenerli lì non è il massimo della vita. Perché è chiaro che quando li rimuoviamo fanno il grande sciacquiglio, come si suol dire, fanno un'opera gravissima. Ma non è che stando lì stanno tranquilli, tutti i giorni quella roba aiuta tranquillamente a vivere al mare e a noi stessi. Quindi che vadano rimossi è un elemento formidabile. Mi spiego. Poi, come si dice, il dibattito sul C, io ho preso la mia posizione chiara perché non ci giriamo intorno sulla questione, ma è evidente che però è un'opera assolutamente comunque essenziale. Non so se puoi aggiungere qualche altro. In 30 secondi, Venezia sulle questioni ambientali ha avuto due focalizzazioni che hanno messo in dimenticatoio tutti gli altri problemi. E cioè il Mose e le grandi navi. Focalizzati su queste due cose che sono poi, voglio dire, degli aspetti anche di macroeconomia locale, eccetera, la città e la laguna in quelle che sono le sue necessità di manutenzione ordinaria non si è fatto più niente. Io sono stato 20 anni a Venezia, non si è fatto più niente. Io ho visto con i miei occhi e chiudo, il ponte, quello sulla laguna, adesso sotto, è chiuso. Cosa ci sono? Ci sono cozze e ostriche. È tutto tappato, non passa più l'acqua. Cioè, lasciando le cose in questa maniera, la laguna si è divisa in due parti. Quello che è a nord e quello che è a sud, con tutti gli effetti sui ricambi e sugli altri effetti. Grazie, grande prof. Grazie di tutto.